A Santa Maria Maggiore un convegno per presentare la valorizzazione della filiera del legno. Il perché di questo progetto? Perché la filiera del legno energia è una filiera che ha molte possibilità di crescita, anche economica e anche di impatto ambientale, nel senso di miglioramento degli impiatti, sia in gestione dei boschi, sia in qualità delle emissioni, però su cui richiede una quantità di lavoro, di innovazione, di settore significativa. E quindi il nostro progetto, che è un progetto di cooperazione tra aziende del settore forestale, è un progetto che vuole dare alcuni strumenti sia alle imprese sia agli enti pubblici per migliorare il settore sostanzialmente. Una sfida che ha ancora diversi passi da compiere? Ha molti passi da compiere, nel senso che le imprese forestali oggi devono raccogliere la sfida di voler remunerare maggiormente il proprio lavoro nel bosco, che oggi in qualche modo è borderline, senza però andare ad inficiare sulla qualità ambientale delle proprie lavorazioni. Quindi una sfida molto importante di cambio radicale delle proprie azioni, volte a migliorare gli aspetti emissivi delle proprie installazioni, perché utilizzare biomassa può rappresentare un'opportunità da una parte, ma dallo stesso tempo una problematica sotto il punto di vista della qualità dell'aria. La filiera del legno, una prospettiva importante anche per la Valle Vigezzo? Oggi è una giornata informativa appunto per gli operatori, in cui possono conoscere questo lavoro e questo sistema di lavoro importante in certe zone. Forse la Vigezzo non è ancora pronta a questi progetti, ma sicuramente è l'interesse di far conoscere anche ai cittadini cosa può essere il futuro sul lavoro e sui boschi.